Tutte queste anatre stanno per fare una brutta fine. Per prevenire il diffondersi dell'influenza aviaria, le autorità francesi hanno disposto l'abbattimento e la distruzione di un milione di volatili, in particolare nel sud-ovest del paese. Il provvedimento riguarda almeno 3.000 allevamenti fra i dipartimenti del Gers e dell'Helande. Il governo ha riunito le associazioni di categoria che parlano di catastrofe. Oggi ci chiedono di finire disoccupati e senza indennità. Ci saranno gravi conseguenze ed è difficile da accettare. Gli allevatori e i produttori del famoso foie gras sono molto preoccupati anche perché queste crisi sanitarie si ripetono a distanza sempre più ravvicinata. Secondo uno dei sindacati, la causa è l'industrializzazione dell'allevamento.